Sono iniziati nella giornata di ieri i lavori di riqualificazione della statua della Madonna del Mare posizionata alla punta del porto turistico della città di Agropoli. Il gesto indegno da parte di ignoti ha privato la vergine di quattro dita, tre alla mano sinistra e una alla mano destra, deturpata la cupoletta che rappresenta la chiesa ai suoi piedi e imbrattato il manto con bestemmie. L'effigie della Madonna fu vandalizzata all'inizio del mese di marzo, prima dell'inizio dell'emergenza coronavirus. Nella giornata di ieri un cittadino di Agropoli, Gerardo Scotti, con i dovuti permessi della Capitaneria di Porto e la collaborazione dell'Agropoli Cilento Servizi, che ha provveduto a fornire le impalcature, ha iniziato i lavori di ripristino volontariamente e in maniera del tutto gratuita per ridare dignità alla statua della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori, simbolo degli abitanti del borgo antico agropolese e punto di riferimento secolare da parte di tutta la comunità. Grazie a tutti.